E carissimi amici, carissimi amiche, salve a tutti, facciamo un breve video di aggiornamento perché c'è un aggiornamento importante per il caso di Silvia Novak, la donna tedesca trovata morta lì ad Ogliastro Marina, a Castellabate, perché ci sono dei ulteriori elementi che si vanno ad accumulare e che in un certo modo buttano una luce di sospetto sempre sul compagno Kai. Noi cosa abbiamo detto? Che ieri di quell'ombra che pochi minuti dopo viene visto uscire e andare nel senso opposto della strada uscire dal cancelletto. Oggi cosa viene fuori? Un'altra indiscrezione molto importante cioè che quel pomeriggio del giorno 15 alle ore 16 esce Silvia col guinzaglio, con una ciotola dopodiché arrivata all'altezza di quella telecamera della villetta di fronte lei si rivolge a qualcuno all'interno della staccionata, quindi all'interno della villetta chiedendo postami una coperta, perché evidentemente aveva dimenticato o riteneva che fosse importante portare questa coperta, magari se c'era qualche cucciolo di cane qualcosa, magari infreddolito, e si rivolge in tedesco e dall'altra parte si ode insomma una risposta ma il problema è che a chi poteva rivolgersi in tedesco all'interno della sua villetta se non al marito, al compagno. Perché è importante questa cosa qui? è importante perché alla fin dei conti crolla definitivamente a questo punto l'alibi perché l'uomo dice io mi ero addormentato, dalle 15 alle 17 stavo dormendo ora se lei alle 16 esce e si rivolge a lui all'interno della villetta lui certamente dormendo non sta, ed è di tutta evidenza che solo a lui si potesse rivolgere all'interno della sua villetta, non c'erano altri perché la coppia che aveva pranzato con loro era andata via alle ore 15, quindi la dinamica è questa fino a questo momento almeno da quello che si sa. Lei esce dal portoncino, gira sulla propria testa, comincia a camminare poi ad un certo punto, fatto, non so, circa 50 metri, 70 metri forse gli viene in mente che sarebbe utile avere una copertina con sé ed in tedesco avvicinandosi alla staccionata della villetta dice a qualcuno all'interno, che presumibilmente è il compagno, di portarle una coperta, una copertina da lì non si capisce bene la risposta, ma sempre sia una risposta di pochi secondi ora il problema qual è? È che la donna continua a camminare ed è come se, quindi se fosse il marito è come se sapesse dove la donna sta andando perché? Perché non è che la donna aspetta e aspetta lì che le venga mandata, le venga portata la coperta, questo no. E allora che cosa succede? Succede che due o tre minuti dopo però si vede un'altra cosa, si intravede, si dice che c'è un'ombra che una persona che uscirebbe dallo stesso portoncino della villetta, però girando a sinistra e si presume che girando a sinistra e poi ancora una volta a sinistra si possa fare il giro, diciamo, della villetta che va proprio a sbugare sempre in questo boschetto quindi potrebbe aver fatto, se fosse il marito, un'altra via per andare dove magari già sapeva di dover andare ora questo è poco perché sono ancora forse delle suggestioni ma ci sono elementi che portano in questa direzione ed è poco per attribuire a lui qualcosa di significativo però è di tutta evidenza che se la dinamica è questa abbiamo un marito che diceva io non c'ero e se c'ero dormivo quando invece sembra che non ci sia stato il suo fatto di dormire e forse lui è uscito magari portando questa copertina ed è uscito con quale intenzione? Ecco, lì bisogna fare ulteriori passi avanti perché poi se fosse lui che ha portato questa copertina però questo non l'ha detto non ha detto di essere uscito non ha detto di essere stato chiamato non ha detto di essere andato nel boschetto non ha detto di aver raggiunto la compagna non ha detto niente ha detto semplicemente che quando si è svegliato dopo le 17 non avendo trovato Silvia esce fuori e comincia a cercarla e quindi è tutta un'altra annalizzazione quindi questa è notevole questa notizia siamo in attesa di avere delle conferme quindi domani le daremo ulteriore conto diciamo, può darsi che non sia vera è stata data dalla TV nazionale e sembra con buona evidenza per cui questa è la notizia di oggi domani la approfondiremo quindi questo per il momento grazie condividete il video un abbraccio a tutti voi